Si occuperà di cultura e turismo nello staff del consigliere regionale del PSI Andrea Volpe, l'arianese Maria Elena De Gruttola. L'incarico, conferitogli la scorsa settimana, arriva a pochi mesi dalla candidatura della De Gruttola alle regionali. Primo obiettivo, intercettare i fondi che l'Europa stanzierà per la ripartenza dei settori della cultura e del turismo dopo la pandemia. La pandemia è stata veramente un duro colpo per questi due settori perché, come sappiamo benissimo, il turismo è stato completamente bloccato a causa del Covid e la cultura in tutti i suoi aspetti e i suoi ambiti, soprattutto quelli di fruizione di massa, è stata completamente inibita. È stato un anno di sospensione per la cultura e credo che sarà veramente impegnativo riuscire a riprenderci da questa condizione. Però ce la dobbiamo fare. Per lei, già manager culturale di professione, si tratta di un'opportunità per mettere a servizio del territorio e soprattutto dell'Irpinia le sue competenze in materia. Il turismo culturale può essere una forte spinta per il rilancio dell'economia in Irpinia come attrattore per questi luoghi. L'Irpinia ha tante frecce nel suo arco. Probabilmente alcune non le conosciamo ancora bene o non le sappiamo utilizzare ancora bene. Però c'è una ricchezza naturale veramente importante che in altri posti, in altre zone, viene sfruttata e utilizzata nel migliore dei modi. Punterei sicuramente su questo, sulla bellezza naturale. Punterei non da meno sul turismo religioso che comunque in Irpinia è presente e potrebbe sicuramente essere un forte volano per l'economia. Non dimentichiamo tutti i prodotti enogastronomici che sono un punto di forza. Quindi l'enogastronomia che attira già molta gente e che potrebbe essere strutturata meglio e convogliata in un circuito. La De Gruttola è già al lavoro per una prima proposta. Mi piace pensare a cose impossibili, dice, che però in realtà si possono realizzare. Io immagino Procida. Procida è stata nominata capitale della cultura per il prossimo anno ed è un'isola. Ci si arriva con molta difficoltà. Ecco, io immagino l'Irpinia come Procida. L'Irpinia è molto difficile da raggiungere. Non è un luogo dove ci si passa, ma ci si deve arrivare. E mi piacerebbe moltissimo creare una partnership, una simbiosi, un lavoro comune con l'isola di Procida per promuovere la candidatura a capitale della cultura e per promuovere l'Irpinia al tempo stesso.